Oggi Aldo il giorno 11 dicembre 2018 in questo momento circa alle ore 16 si trova come si può per dire in un ambiente tipico della Francia dove Van Gogh fece i suoi primi quadri eccolo qua l'ambiente con le colline francesi ma no palle non è vero sono qua solamente in Brianza che è un ambiente così tanto bello che ricorda certi paesi stranieri in fondo sono in Brianza la villa Durini esattamente nel parco a me da tanto tempo amato perché è una zona dove non c'è nessuno a me piace la solitudine amare gli ambienti ambientalistici infatti mi trovo la stazione più vecchia della Lombardia di Brenna Alzate che è costruita nel 900 dove passava il treno a vapore saluto questo ambiente e mi dirigo io stesso in un altro ambiente diciamo un sentiero naturista da qui incomincia il sentiero naturista dove quest'estate venivo spesse volte ecco qua c'è come una porta d'entrata che è delineata da questo